Di nuovo buongiorno dal CNMP 2018, terzo giorno. Abbiamo sfatato molti miti, distrutto molte morte, spaccato molte bufale, sminuzzato molte fake news, abbiamo tirato giù molta presunzione, disinformazione, molto pregiudizio sulla cattiva maniera imperante di andare e di fare divulgazioni scientifiche in tema di alimentazione, ma a un certo punto abbiamo parlato di pizza, perché la pizza è un'istituzione italiana. Due persone molto esperte di questo argomento dal punto di vista proprio scientifico e che ci possono spiegare molte cose, quindi state in collazio, specialmente se siete di Napoli. Cercate di stare vicini, che adesso chiacchieriamo con Walter Caputo e lui Gina Pugno, autori, facciamolo vedere anche se stanno cambiando le luci. Fabio Ranfi, inquadrati un attimo, cambia le cose in corsa, cambia tutto, tutto a posto, tutto benissimo, sta dicendo tutto benissimo, faccio i sottotitoli, tutto a posto. Allora stavamo dicendo, qual è la camera? Lo ridico, damma a due, sono anni che sto cercando di dire damma a due, questa a uno. Questo è il libro, la pizza al microscopio, ma era anche il titolo del nostro, vostro intervento. Raccontiamolo un po' nei suoi concetti. Raccontiamolo a metà e poi mi dite anche quando siete in pizzeria se prendete una pizza in due oppure due pizze. No, prendiamo due pizze, abbiamo gusti differenti e capacità anche a inglobare differenti, per cui io vado su quelle minime. Allora in questo intervento abbiamo cercato di sfatare alcuni miti. Innanzitutto abbiamo parlato della moringa che secondo alcuni sarebbe una pianta miracolosa da cui si estrae e si ricava una farina che si introduce anche, si utilizza per la pizza e avrebbe degli effetti salutistici su centinaia di malattie diverse. Ecco, le cose non stanno così, la moringa costa un occhio della testa, i benefici scientifici accertati sono pochissimi e gli esperimenti sono ancora all'inizio. Sì, sono avvenuti dei miglioramenti solo a livello della pressione sanguigna e dei livelli di glucosa nel sangue, ma esclusivamente in laboratorio. Quindi non c'è ancora uno studio sugli esseri umani. Quindi tutta la pubblicità sui benefici fisici che si avrebbero assumendo la moringa sono falsi, non sono, almeno non sono ancora supportati dalla scienza. Un altro paio di bufale? Disinformazione sulla pizza. Per esempio che la pizza faccia ingrassare. Attenzione, ma io sappiamo come facciamo ingrassare. Ma no che non fa ingrassare, la pizza è un pasto completo. Ci sono i carboidrati, c'è il pomodoro, quindi la parte di fibre, vitamine, c'è la parte proteica perché c'è la mozzarella. Allora che cos'è che fa? Anche come contenuto di calorie, se io mi mangio solo una pizza ho assunto... Vorrei che tu proprio ti rivolgesi. Mi rivolgesco. Allora, se io mi mangio una pizza, assumo il corretto numero di calorie che io dovrei assumere durante un pasto principale. Allora che cos'è che fa ingrassare? Il fatto che io di solito la pizza ci abbino. E il vino, e la birra, e la vivita gasata, e il dolce. Mettendoci il dolce ho un surplus di zuccheri e amidi. Allora, se io mi mangio semplicemente la pizza, che è quella proprio di base migliore, con dell'acqua, io ho fatto una cena salutistica. Anzi, la pizza viene proprio introdotta nella dieta dimagrante. Una volta a settimana, di solito. Quindi... Una terza cosa importante, la pizza dà dipendenza. La pizza sì, dà dipendenza perché non tanto la pizza in sé, ma la case morfina che è contenuta dalla mozzarella. Si chiama appunto case morfina, funziona un po' come la morfina e quindi ci fa piacere e quindi può dare dipendenza. Allora, riassumiamo un po' le cose che... Qui, come vedete, si rifà, si ricostruisce, si ridisegna la divulgazione scientifica in tema di alimenti. Abbiamo detto che le 700 calorie... 650? 500-700. 200 calorie di una pizza margherita sono quanto di meglio si possa assumere e portare alla bocca perché sono un passo completo. Attenzione però a non aggiungerci la Coca-Cola, la birra, il tiramisù, lo sgroppino, il limoncello, il quant'altro ne va nei momenti conviviali. La seconda cosa è che bisogna fare attenzione perché la case morfina contenuta nella mozzarella e la crea dipendenza. E come dire, allora, innanzitutto facciamo rivedere questo libro La pizza al microscopio di Gribaudo e tanto per dire due cose interessanti. Per dire che il CNMP 2018 sta rifacendo questo modo di comunicare la scienza in un modo molto informale ma la C1W Edizione difende sempre la buona editoria anche se non è della C1W Edizioni. Quindi questo è l'editore Gribaudo, che è un marchio di Feltrinelli. Allora, lasciamoci con un'indicazione, una sollecitazione per il futuro della nostra pizza. Allora, una sollecitazione per il futuro e soprattutto per i clienti e per coloro che consumano pizza è quando dovete scegliere una pizza non fatevi attrarre da cose come impasti integrali, impasti al carbone vegetale, impasti alla curcuma, tutte robe che non servono a nulla. Va bene la pizza secondo disciplinare, la pizza napoletana va bene così, non serve altro. Dovete fare attenzione a una cosa quando ordinate la pizza in pizzeria che a volte c'è un'abbondanza di ciò che viene messo sopra e tendenzialmente viene fatto per coprire un impasto scadente. La buona pizza, come può essere quella minima come la pizza marinara, la pizza margherita, vi dà il polso di quanto è bravo quel pizzaiolo. Vi potete allora fidare di quel pizzaiolo, di quella pizzeria e ordinare anche le altre tipologie. Curiosare un po'. Grazie, straordinario, non ho nulla da aggiungere, ci vediamo alle prossime dirette.